Cosa sarebbe sto giorno del riposo? È solamente una putada! I no me frega un par di huevos! Non tiene importanza para me! Potrai fregare gli estrucci della Lega, ma tu a me i no me freghi! Perché nessuno frega Jesus! Roba dei dilettanti psicopaticos! Roba del ridere! Io sabato te l'avrei infilato dritto in quel posto, ora invece te lo infilerò il mercoledì! Wow! Tienes un appuntamento per mercoledì, guapito! Grazie!